E' addormentato. Che ore c'è? Subito dottore. 20 minuti alle 6. Per bacco quanto ha dormito. Scusatemi. Vediamo come va. Mi dia il lume per piacere. Sì. Vuole tenerlo? Subito. Al bambino? Sì, sì, al bambino. Apri la boccuccia così. Scusi. Prego dottore. Bene, bene. Non potrebbe andare meglio. Siamo a posto. Grazie a Dio adesso non c'è più pericolo. Ti salvo. Beh, signora, adesso bisogna lasciarlo in pace, il bambino. Su, avanti. Ora ce ne andiamo tutti di là e lo lasciamo rimpossare. È giusto? Giustissimo. Sì, dottore. Dunque, il bambino non può restare qui. Per almeno un paio di settimane non deve avere contatti con nessuno. L'ospedale? No, no, no. Sì, l'ospedale, signora. Meglio l'ospedale che qui. Magari le faccio un biglietto per il direttore del reparto Pegliati e Qualfone Clinico. È un mio vecchio compagno di scuola. E mi raccomando, disinfettare, bullire tutto quello che ha avuto contatto col bambino. Che cosa? Beh, la sua tazzetta, il suo bicchiere. E specialmente il cucchiaio che gli ho messo nella bocca. Oddio! Cosa c'è? Dottore, è l'otro di bocca? Eh, ma come vai? Estratto. Ma lei si va a mettere il cucchiaio del bambino in bocca. Si siede da qualche cosa? Beh, speriamo di no. Comunque si avverte qualche sintomo. Dovrà fare un'iniezione di cero anche lei. Mi ci mancava anche questa, mi ci mancava. Buongiorno.